Un viaggio artistico sul concetto universale di libertà attraverso i temi della colonizzazione, delle divisioni culturali, sociali, religiose, fino al tema attuale dell'immigrazione. Si intitola Breve Storia del resto del mondo, l'ampia personale dell'artista romano Pietro Ruffo, in mostra dal 3 aprile al 10 luglio a Catania. L'esposizione, promossa dalla fondazione Pullisi Cosentino e dalla fondazione Terzo Pilastro Italia e Mediterraneo, è curata da Laura Barreca, il presidente della fondazione Terzo Pilastro Italia Mediterraneo, Emanuele Emanuele. È un artista che a mio modo di vedere rappresenta proprio il concetto che vorrebbe la fondazione Terzo Pilastro rappresentare, cioè una vicinanza attraverso la suggestione della sua arte ai grandi temi attuali, questi temi che oggi sono diventati la centralità del dibattito politico e sociale, i problemi appunto delle migrazioni, il problema del lavoro, il problema delle donne, il problema di questa grande epopea che sta diventando l'immigrazione nel mondo. La mostra riunisce una spettacolare sequenza di opere di grandi dimensioni realizzate dall'artista romano dal 2005 ai giorni nostri. L'artista. È un modo per fare una sorta di bilancio degli ultimi dieci anni di lavoro, di progetti che parlano di varie parti del mondo, di vari momenti storici. E proprio l'idea di libertà è l'idea che unisce tutti questi progetti. Dall'idea di una richiesta di libertà da un despota, quindi un'idea di libertà individuale, a invece un'idea di libertà collettiva, cioè dove noi come società possiamo arrivare in termini di libertà. Attuale traduzione artistica della condizione geopolitica internazionale, e la mostra si presenta come riflessione più ampia. La curatrice Laura Barreca. Questa mostra di Pietro Ruffo, la Fondazione Poesico Centino, ha un'importanza dal punto di vista sociologico, dal punto di vista antropologico e ritengo anche dal punto di vista storico. È una mostra che è un'artista dedicata ad un artista contemporaneo sui grandi temi che oggi riguardano la contemporaneità. Temi legati alla nuova identità geopolitica, temi legati al colonialismo, all'imperialismo, alla tragedia del Mediterraneo. Le opere di Pietro Ruffo attraversano questi grandi temi esistenziali della storia contemporanea e lo fanno in una forma monumentale. Allegra Pullisi Cosentino, della Fondazione Pullisi Cosentino, illustra il perché della mostra. Ci sembrava molto importante e un bel segnale per il futuro positivo promuovere un artista giovane qual è Pietro Ruffo, un artista bravissimo perché trovo che sia molto interessante sia da un punto di vista estetico perché è emozionante come mostra, da un punto di vista tecnico perché uno apprezza veramente la maestria e il lavoro dell'artista, capisci il lavoro che ci ha messo dietro e poi da un punto di vista concettuale perché c'è una grande riflessione sulla libertà, c'è una grande riflessione su che cos'è per noi, su cosa è stata e perché no, su che cosa sarà.